Grazie per avermi dato la linea. Settembre si sa è un mese birichino, a volte qualche colpo di vento ci fa sentire un po' fresco. Io sono corso subito ai ripari, come potete vedere, ma è anche vero che stiamo per entrare all'interno della rubrica casi disperatamente umani. In questi giorni tutti quanti alla Fiera del Levante si lamentano e parlano della temperatura eccessiva registrata proprio qui alla Fiera del Levante. È un uomo, un disgraziato, costretto a fare il suo lavoro e a lavorare per? I piumini danesi. I piumini danesi. 52 gradi all'ombra qui alla Fiera del Levante e quest'uomo deve vendere, lo ripetiamo? Piumini danesi. Come sta andando, disgraziato? Relativamente bene. Diciamo che il problema del caldo è una cosa personale. Io per esempio adesso a Fred metto il gilet. E si avvicina a lei e dal suo stand un sacco di gente per cui la temperatura esterna è relativa. Si avvicinano? Si avvicinano e chiedono un po' del prezzo, che tipo di uso farne di questa roba che vendiamo, articoli in piuma. E mi chiedono, ma come mai con questo caldo lei riesce a vendere? Certo. Lei comprerebbe un piumino? Lei rimane sopra, insomma, ce l'ho già e devo riprendere i cuscini. Deve riprendere i cuscini. Perché sono consumati col tempo. Posso sapere come le salta in mente di acquistare dei piumini con questo caldo? E' una cosa che serve. La previdenza. E' una cosa che serve a si avvicinare all'inverno. E' vero che più si diventa maturi, più si diventa anziani, più si diventa decrepiti e più c'è questa ossessione di prevenire, è vero? Certamente. E' come mica la gioventù sta sempre. Bisogna anche prevenire. Poveri, pazzi o lungimiranti, come chiamare questi avventori e i venditori di questi prodotti? A voi la risposta.